Grazie a tutti. Spesso molte persone, anche di fronte all'evidenza dei fatti, continuano ad andare avanti per la loro strada. La questione non è di semplice risoluzione, perché appunto, come abbiamo discusso tante volte, sappiamo bene che i fanatici non si convincono solo con la logica, anzi spesso non si convincono con la logica. Quindi l'idea della storia, come strumento e arma di tipo terapeutico, va incontro a questa esigenza che abbiamo di cercare di trovare un metodo per, come dire, riprogrammare anche proprio certi tipi di credenze e di convinzioni, scavando nel passato, magari ricostruendo a memoria, tipo un po' come i replicanti Blade Runner. A un certo punto vi facciamo vedere, guardate i ricordi che vi sono stati innestati, sono tutti sbagliati. Proviamoci con la storia, anche da questo punto di vista, e questo è un po' il senso anche della rubrica che sto tenendo. Il prossimo numero, tra l'altro, conterrà un articolo su Newton, che si ricollega un po' all'argomento di questa relazione, perché uno degli sbagli spesso si fanno è quello di pensare che siccome personaggi importanti nella storia della scienza si sono occupati di determinati argomenti, allora questi argomenti continuano ad avere una validità anche nel corso del tempo. Questo è il verore, per esempio, che fa a volte Giacobbo quando parla delle profezie di Newton. Cioè il fatto che Newton si sia occupato delle profezie non significa assolutamente nulla. È una cosa importante dal punto di vista storico, ma noi sappiamo che appunto i criteri con cui scienza e pseudoscienza, i criteri per distinguere scienza e pseudoscienza variano molto nel corso del tempo. E questa è una cosa da tenere presente. Trattandosi di storia, la mia relazione si ricollega in maniera ideale a quella di Enrico Salvatore di questa mattina, e quindi entriamo subito nel video del discorso, facendo vedere che ancora del metà del Seicento, ovviamente, si continua a calcolare molto e a chiedersi quando è la data dell'inizio, per esempio, del mondo. Questo è uno dei testi classici di riferimento di James Hush, 1650, il testo su cui anche ha lavorato Newton, e quindi qui la data della creazione del mondo viene indicata in maniera molto precisa, 23 ottobre 4.004 a.C. Non mi ricordo mai bene se Dio si è alzato alle 6 o alle 9 del mattino, se ha fatto colazione oppure no, però, insomma, abbastanza presto, insomma. Una data importante è il 2348 a.C., quello è il diluvio universale. è una data importante perché intanto dobbiamo ricordarci appunto che questo tipo di cronologia è accettato da tutti, cioè questi sono i riferimenti, cioè che il mondo abbia una storia di 6.000 anni è solo una convinzione, come dire, di ecclesiastici o di personaggi che hanno una modalità di pensiero conservatrice, ma è la convinzione che hanno anche i maggiori scienziati del tempo e dell'epoca, da Newton a Cartesi o ad altri grandi personaggi. Quindi si rientra in questo tipo di contesto. Il problema inizia a nascere appunto nel 600 con la scoperta dei fossili. Cioè quando si inizia a capire, c'è tutto un dibattito su cosa siano i fossili, per molti sono scherzi di natura, non sono segnali, indizi di resti organici, di animali, di vissuti nel passato, non sono niente di questo genere. C'è tutto un dibattito sul fatto che i fossili possono essere degli scherzi di natura, cioè degli oggetti di natura petrosa, dei minerali. Quindi la natura, Dio nella sua infinita potenza, si diverte a imitare tutte le forme possibili e immaginabili e quindi abbiamo anche queste cose che sembrano resti di animali e in realtà non lo sono. Quando però si inizia a capire che i fossili sono indizi di esseri vissuti in un passato da definire, e poi naturalmente c'è il dibattito se questi siano, come dire, resti di specie ancora esistenti oppure no, perché il problema è quando troviamo dei fossili che non corrispondono alle specie attuali che conosciamo, come facciamo a catalogare? La risposta c'è sempre perché si può fare riferimento a specie che ancora sono nascoste, chissà in quale parti della Terra che ancora dobbiamo esplorare, quindi ci sono delle interpretazioni possibili e immaginabili. In ogni caso, la scoperta dei fossili non fa, come dire, fare subito un salto verso interpretazioni di tipo moderno e contemporaneo relativamente all'interpretazione del passato della Terra, proprio perché la spiegazione che viene adottata anche da grandi personalità è che i fossili che noi troviamo sulle Alpi o nei vari montagni o dove volete, sono nient'altro che il risultato della più grande catastrofe che l'umanità ha potuto sperimentare, e cioè il diluvio universale. Questa appunto era una cosa a cui credevano in molti grandi anche, chiamiamoli scienziati, ma lo sapete appunto, scienziato è una parola che è stata coniata solo nel 1833, e quindi è anacronistico come tipo di termine, parliamo di filosofi naturali o di naturalisti. Newton appunto è uno di quei personaggi che si è occupato molto di cronologia biblica e definire la data d'inizio del mondo e la data della fine del mondo. Lui era convinto attraverso appunto i suoi studi in campo fisico solamente di aver dimostrato come funziona il mondo dal punto di vista normale, la fisica normale, mentre per tutto ciò che atteneva alla creazione bisognava guardare alla Genesi, per quello che riguardava la fine del mondo bisognava andare a leggersi l'Apocalisse di San Giovanni. Tra l'altro noi sappiamo che Newton si è occupato appunto molto dell'interpretazione dell'Apocalisse e addirittura che le regole del metodo di Newton che si trovano nei principi sono state formulate ancora prima per decifrare il testo dell'Apocalisse. Quindi come vedete la questione è complessa. Tutto questo fa della cronologia biblica una disciplina ancora oggi attendibile e scientifica? Assolutamente no, perché le cose appunto cambiano nel corso del tempo. Questo è il testo, tra l'altro il primo testo di Newton tradotto in italiano, la cronologia degli antichi regni, è un'opera molto interessante dove addirittura Newton si preoccupa di comprimere la storia del mondo per motivi che ora, non sto a spiegarvi, sarebbero troppo lunghi. In ogni caso c'è tutto un tentativo di interpretare le novità scientifiche, in particolare la scoperta dei fossili, all'interno di un quadro cronologico tradizionale. E Attanasius Kircher, famoso gesuita del 600 che si è occupato di innumerevoli argomenti, ha tentato anche di decifrare i geoglifici ad esempio, ed è un naturalista di notevole livello, tra l'altro appunto se andiamo a guardare le storie della geologia lo troviamo come uno dei precursori della geologia moderna, insomma è un personaggio molto interessante, però va visto a 360 gradi e allora la cosa diventa più complessa. Kircher si preoccupa addirittura di capire sulla base delle indicazioni fornite dalla Bibbia quante specie effettivamente abbiano saputo, siano state in grado di sapere sull'arca sulla base delle dimensioni dell'arca fornite dalla Bibbia. Quindi addirittura abbiamo proprio gli schemi in cui lui prova a individuare come tutto questo accade. Come potete capire l'impresa è di difficile risoluzione, già Kircher se ne accorge, perciò tutto questo dibattito su come collocare le specie animali fossili in un quadro cronologico tradizionale che lentamente si sgretola e porta a una storia che ovviamente oggi noi non possiamo ripercorrere, che è quella della comparsa delle prime teorie evoluzionistiche e di teorie geologiche, ad esempio quelle di Charles Weill, in cui i tempi geologici si allungano. Weill poi è stato il maestro di Darwin, ma questa, ripeto, è un'altra storia. E' un'altra storia anche perché, come dicevo prima, idee che noi oggi consideriamo, possiamo considerare pseudoscientifiche, anche se il catastrofismo non è un'idea pseudoscientifica in sé ovviamente, però come tipo di impostazione, come poteva essere proposta a quel tempo, è un qualcosa che continua a convivere come teoria non solo alternativa, ma teoria molto forte all'interno dei dibattiti della storia naturale. E il suo massimo interprete, addirittura, al di là delle teorie sul diluvio che ci sono già dal Seicento, è uno dei più grandi scienziati di Francia del primo Ottocento. Georges Cuvier è uno dei fondatori dell'anatomia comparata. Georges Cuvier è addirittura colui che per primo stabilirà l'effettiva esistenza dell'estinzione della specie. Ancora rispetto alla marque, Cuvier dice qualcosa in più rispetto alla questione dell'estinzione della specie. Però è un conservatore dal punto di vista politico, lui crede che il testo biblico sia ancora un testo importante di riferimento, e quindi, pur non negando l'estinzione della specie, pur non potendo negare l'ormai evidente allungamento dei tempi che i dati geologici mettevano a disposizione, lui ritiene che la storia del mondo vada interpretata comunque attraverso una serie di catastrofi, da cui catastrofismo, che si sono, come dire, catastrofi che hanno scandito la storia dell'umanità, e l'ultima di queste catastrofi è appunto il diluvio universale. E la storia degli uomini inizia appunto così come ancora dicevano le cronologie bibliche del Seicento, cioè inizia più o meno 6.000 anni prima dell'età contemporanea, anche perché c'è tutto un dibattito se siano stati trovati fossili o no di uomini vissuti prima del diluvio. Ma adesso a noi questo non interessa, vedete, questa è la traduzione italiana di un importante scritto di Chivet, è del 1828 ed è ad esempio il testo su cui Giacomo Lopardi costruisce molte delle sue informazioni geologiche, anche che poi finiranno ad esempio nelle operette morali. Quindi è un testo molto importante da questo punto di vista. Quindi il catastrofismo ha una sua dignità scientifica, ancora all'inizio dell'Ottocento, e la catastrofe per eccellenza non può che essere ovviamente quella di Atlantide. Anche perché Atlantide, che è un tema che entra, come dire, precedentemente alla ribalta nell'età moderna dopo la scoperta dell'America, serve a spiegare dal punto di vista scientifico, in questo contesto, tutta una serie di problemi per loro di difficile risoluzione. Ad esempio, come mai trovo gli stessi tipi di fossili sulle sponde dell'America e dell'Africa? Come hanno fatto i figli, i discendenti dei figli di Noè, a giungere fino in America? Perché non dobbiamo scordarci che anche la storia dell'uomo viene ricostruita sulla base delle indicazioni bibliche. Quindi l'idea di un ponte continentale, cioè qualcosa che abbia permesso il passaggio semplice in epoca antica da una parte all'altra di uomini, specie vegetali, animali, non è una cosa, come dire, secondaria in questo contesto, ma è l'ipotesi principale, che adesso vi farò vedere rapidamente, resiste ancora dal punto di vista scientifico, è plausibile ancora intorno ai primi decenni del Novecento, e forse ancora qualcosa dopo. Questa sulla destra che vedete è la famosa mappa sempre di Kircher, nel suo testo dedicato alla geologia, in cui parla di Atlantide, in genere vediamo solo la carta, ho ritenuto opportuno, era più simpatico far vedere l'intero testo, su cui si potrebbe scrivere un libro intero, quando leggiamo tutti i testi psoroscientifici che riproducono sempre la carta di Kircher, potremmo scrivere un libro intero sulle cose inesatte che dicono relativamente a questa carta e all'opera di Kircher. È talmente importante la questione di Atlantide che appunto nell'Encyclopedia, cioè il testo per Antonio Masia, della diffusione della cultura scientifica nel Settecento, alla voce Atlantide, qua abbiamo messo la versione inglese, semplicemente per il fatto, perché come accadeva all'inizio nell'Encyclopedia, il primo volume del 1751, molte delle voci dell'Encyclopedia erano in realtà non originali, ma tradotte dalla sorella inglese di Chambers, quindi anche la voce francese non è nient'altro che la traduzione della versione inglese, ma la cosa importante che a noi interessa è che in questo testo, appunto, oltre alle nozioni basilari su dove è nata l'ipotesi di Atlantide e dei testi di Platone, che viene presentata come la più plausibile fra le ipotesi, perché l'altra forte era che Atlantide fosse l'America e poi da questo momento in poi c'è l'esplosione, per cui noi poi ritroviamo Atlantide collocata in tutte le parti del mondo, ma anche questa è un'altra storia, per chi a noi adesso ci interessa la teoria delle catastrofi, l'ipotesi più accreditata è quella, appunto, di Atlantide come ponte continentale, come isola esistita nei tempi antichi nell'Atlantico. Il terremoto di Lisbona, che è un evento fondamentale per la cultura del Settecento, non solo dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista filosofico, perché fa toccare con mano quella che è l'idea che si aveva di possibile scomparsa di una civiltà, non fa altro che ravvivare quest'idea. E il nostro simpatico barone Dolbach, che oltre a essere un materialista e grande filosofo, è stato anche colui che si è occupato della redazione di tutte le voci di geologia nell'Enciclopedie, nella sua voce sui terremoti, nel 1765, appunto, continua a proporre la tradizionale interpretazione che arriva fino a Jules Verne, anche dopo, e cioè che gli arcipelaghi Atlantidi probabilmente sono i resti dell'antica Atlantide che è scomparse, eccetera, eccetera. Ma noi troviamo ancora testi di padri fondatori della geologia a fine Ottocento che continuano a ripetere queste ipotesi. Il terremoto di Lisbona, per la cronaca, si calcola essere stato intorno al nono grado della scala Richter come magnitudo, è stato sentito fin nei paesi scandinavi e c'è la famosa testimonianza di Casanova che, prigioniero nei piombi, vede proprio le travi toccarsi, insomma. È molto interessante da leggere. La riscoperta, sempre in quegli anni, delle rovine di Pompei e Ercolano non fa che rafforzare ulteriormente questa idea. E addirittura che sia possibile, era addirittura un giorno arrivare alla scoperta di Atlantide. Abbiamo riscoperto Pompei dopo duemila anni, prima o poi troveremo anche i resti di Atlantide, semmai riusciremo a organizzare qualche spedizione. Ed è per questo che, quando noi leggiamo 20.000 leghe sotto i mari, 1869, Jules Verne, che amava documentarsi, quando ci descrive il capitano Nemo che appunto fa la famosa spedizione vicino agli arcipelari atlantici, non sta inventandosi niente, sta semplicemente riproponendo quella che è l'ipotesi ormai comunemente accettata e che Atlantide probabilmente è un continente sprofondato nell'Atlantico in un periodo cronologicamente da definire. Tutto ciò, e questo ci tengo appunto, e poi passo rapidamente a un altro argomento e alla conclusione dell'intervento, fino a Wegener, di cui noi festeggiamo il centenario quest'anno, 1912, è la data del primo scritto in cui Wegener, come dire, propone la sua prima interpretazione sulla deriva dei continenti. Però ricordiamoci che questa prima versione della deriva dei continenti di Wegener, prima di tutto, sarà sottopusta a durissime critiche. Molti geologi la rifiuteranno, alcuni ne saranno convinti, ma molti la rifiuteranno. E fino agli anni 60-70, cioè fino a quando non avremo la teoria della tettonica a placche, come dire, noi non abbiamo questo tipo di modello per l'interpretazione dei cambiamenti della crosta terrestre, ad esempio. Quindi l'idea dei ponti atlantici è dura a morire. Darwin ha dovuto faticare tantissimo, Darwin non credeva all'idea dei ponti atlantici, ma la maggior parte dei suoi colleghi invece ci credeva. E quindi dobbiamo aspettare molto dal punto di vista scientifico per, come dire, accantonare Atlantide come oggetto dal punto di vista scientifico. Capite quindi che il dibattito è molto complesso, anche perché appunto i nostri autori di pseudoscienza vanno a recuperare fonti nel passato utilizzandole come se fossero valide ancora oggi. E in un contesto così complesso non è facile capire quando stanno dicendo la verità oppure no. molto rapidamente vi faccio vedere in un paio di minuti però quanto la situazione sia ancora più complicata. Perché oggi, stamattina Enrico Salvatore ci parlava appunto di una visione del progresso e della storia che cambiano a un certo punto nella storia e si indirizzano verso un cammino più progressivo. Però è un cammino progressivo che, come dire, per esempio all'interno della filosofia di Francis Bacon non è quello che potremmo immaginarci quando pensiamo alla filosofia ottecentesca del positivismo. Cioè è nell'Ottocento che si afferma come dire un'idea di mito progressivo dell'umanità della scienza e della tecnica quasi come una legge ineluttabile mentre nell'età moderna tra 5 e 700 e Francis Bacon nel prototipo la situazione era diversa nel senso che Bacon pensava più a come dire l'idea diffondeva questa la scienza è lo strumento migliore che può servire al miglioramento delle sorti dell'umanità però non è uno strumento che come dire è valido in assoluto può anche essere perso può essere perso se le civiltà non ne sanno fare buon uso e le civiltà come hanno una crescita possono avere anche un crollo possono anche scomparire per questo per esempio l'idea del terremoto di Lisbona si collega a questa idea di un avanzamento del sapere che però può anche essere legato a dei fenomeni catastrofici e a complicare ancora più le cose c'è il tema dell'antica sapienza qui a Siena credo sia ancora scoperto il pavimento del Duomo in questi giorni quindi se volete andare a vedere la piastrella di Marsilio Ficino dal vivo è sempre una bella esperienza questa idea che prima della catastrofe ci sia stata una civiltà o qualcuno che avesse una sapienza e avesse una conoscenza delle cose migliore di quella che abbiamo noi oggi è un'idea che arriva dall'ermetismo ma penetra all'interno della scienza moderna perché appunto la distinzione tra scienza moderna e magia non la si fa guardando gli oggetti cioè non la si fa guardando se Newton studia l'alchimia oppure no la si fa guardando ai valori e questo è stato accennato stamattina si deve guardare ai valori che si dà al lavoro che si fa su quell'oggetto quindi sapere pubblico sapere privato autorità o invece segreti però resta il fatto che il tema dell'antica sapienza è un tema che è importante all'interno della scienza moderna fra 5 e 700 e poi però continua a vivere fino ai giorni nostri e si aggiorna tecnologicamente per cui noi possiamo avere appunto frasi di questo tipo non è impossibile che sia esistita una precedente età colta nella quale forse le cose erano conosciute come oggi o forse ancora di più insomma eccetera 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 è il tema tipico che si trova in questi tipi di testi chi ha detto nessuno dei tre ha indovinato perché questa frase l'ha pronunciata Robert Hooke uno dei più grandi scienziati del 600 collega di Newton membro della Royal Society scopritore delle cellule uno dei primi a utilizzare il microscopio eccetera eccetera e poi abbiamo altri famosissimi e importanti scienziati come ad esempio Baye uno dei più famosi astronomi di Francia del 700 che ad un punto dice che l'astronomia ha un'origine oscura è remota e poi è possibile che nei tempi antichi vi sia stata un'astronomia molto avanzata poi distrutta e dimenticata e qui chiudo quindi vedete ci sono degli oggetti e dei temi che sono di rilevanza molto importante nella storia della scienza moderna e quindi bisogna stare attenti a contestualizzare il tipo di argomenti il problema nasce quando nell'800 e su questo ovviamente potrebbe essere spazio per un'altra relazione ma adesso il tempo è scaduto e qui non voglio aprire l'argomento quando all'inizio dell'800 da una parte c'è la specializzazione delle discipline scientifiche e quindi noi abbiamo la chimica la geologia gli archeologi diventano sempre più specializzati nel loro campo ma dall'altra abbiamo la nascita della cultura popolare della scienza per tutti della divulgazione scientifica e i temi il terreno si perde perché noi abbiamo poi un astronomo come Camille Flammarion che è stato un grande astronomo però faceva anche le sedute speritiche però scriveva i libri sulla fine del mondo credeva nell'abilitabilità di Marte e mette insieme tutti questi argomenti diventando un grandissimo divulgatore scientifico e non riuscendo più a far capire qual è come dire il confine sottile che c'è tra il lavoro scientifico e specialistico e i limiti di una divulgazione che deve stare attento altrimenti poi può generare delle facili illusioni dal punto di vista dell'opinione pubblica e come vedete i libri di Flammarion però vengono ristampati ancora oggi sul tema della fine del mondo travisandone ovviamente il contenuto però facendo un elemento importante per avvalorare ad esempio quello di cui stiamo discutendo vi ringrazio per l'attenzione grazie Grazie.